Allora, dobbiamo dire buone notizie per chi beve quotidianamente il tè. Sembra proprio che questa bevanda allunghi la vita. Ed è proprio così. La vedete? È la storia del tè. È una storia antichissima, così come quella della cerimonia del tè. Inizialmente l'infuso veniva utilizzato a scopi medicinali. Poi con il tempo la bevanda iniziò a essere talmente apprezzata che il tè iniziò proprio a essere preparato secondo riti diversi. A seconda ovviamente dai luoghi, dai popoli, da chi avevi anche magari a casa. E allora, ecco qui, questo è il momento del tè di uno mattina. Andiamo a versarlo. Tra l'altro io vi posso anche dire che non bevo tanto tè, ma da oggi credo che sarà una bevanda che andrò ad apprezzare. Salutiamo subito Gianni Cocco, esperto del tè, e Albino Ferri, importatore di tè. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Massimiliano. Buongiorno, Svigliano. Guarda che bella, guarda. Allora, adesso veramente, chi è che... Allora, questo è il mio invito a uno mattina. Immagino tutti vorrebbero venire. Una bella colazione. Allora, ci fai vedere come se il tè, se uno ti è facile, metto un po' d'acqua calda, metto l'infuso all'interno, è andato. Invece in realtà no, c'è una preparazione, un po' come il caffè anche. Assolutamente, è un'arte. Io partirei Massimiliano raccontandoti un po' quello che è il servizio classico all'inglese, no? Qui abbiamo una bella tegliera in porcellana, ma partirei dal filtro. Questo è un filtro in contorno e sbiancato, all'interno ci sono foglie di tè nero che arrivano dall'India. Foglie, legato proprio a mano. Quindi io cosa vado a fare? Lo vado a posizionare... Capite anche la materia prima. È fondamentale, assolutamente. Vado a scaldare, attenzione qua, come quest'estate quando abbiamo raccontato l'acqua per il caffè, no? L'acqua sicuramente è presa dalla bottiglia con un residuo fisso medio, intorno ai 150 milligrammi, ok? La portiamo a 90 gradi perché è un tè nero e lasciamo in infusione per due minuti. 200 ml all'interno della tegliera. Due minuti? Io qua ti chiederei subito, due minuti perché hai scelto quel tipo di tè? Esatto. Oppure per tutti i tè sempre due minuti? No. Perché poi quando leggiamo, quando gli mettiamo c'è scritto 5 minuti, 6 minuti. Esatto, ogni tè, poi il nostro amico Albino ci spiegherà le differenze tra le tipologie. In questo caso due minuti per un tè nero, per delle foglie ossidate va benissimo. Però una cosa importante, Massi, io volevo dare l'attenzione a chi va a consumare il tè al bar. Perché è importantissimo non farsi preparare il tè con l'acqua della macchina del caffè, perché è troppo calda, iperconcentrata e stantia. Quindi, mi raccomando, fatevi preparare il tè. Ah, quindi glielo dobbiamo chiedere? Eh, dovete dirglielo, assolutamente sì. Hai capito? Allora, Albino Ferri, eccoci qua. Da dove arriva il tè? Ma guardate intanto quanto c'è. Uno dice tè, 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 è facile dire tè. Guarda un po' quanti, come li scegliamo? Ovviamente in base anche al sapore. Cioè, ci illustri un po' per capire? Ne esistono tantissime tipologie. Io vi ho portato qualche piccola campionatura, le più rappresentative. Partiamo da un tè bianco, abbastanza noto, prende il nome dalla lanuggine posta sul dorso del germoglio. Ma la classificazione viene data dal tipo di essiccazione che può essere fatta solo al sole. Passiamo al tè verde, molto famoso, è un tè che non subisce ossidazione, quindi la foglia rimane vicina a ciò che ha donato la natura. Arriviamo poi ai tè neri, i più consumati subiscono una totale ossidazione, quindi la foglia si trasforma, da verde diventa scura e in tazza otteniamo un'infusione completamente diversa, anche dal colore si può notare. Un tè molto particolare, un puer, è un tè da invecchiamento, non ha la data di scadenza, è un tè che migliora in evoluzione. Quindi come se avesse stagionato. Assolutamente, questo nido pressato ha 20 anni. Mamma mia, allora rimaniamo qui però perché, io non lo so, oggi l'ho scoperto, veramente devo fare un applauso a tutta la redazione, perché, ma lo sapevate che in Italia abbiamo piantagioni di tè, c'è quindi tè italiano nostro e lo abbiamo in Piemonte e allora è la più grande, adesso andiamo proprio nella più grande piantagione di tè italiana e c'è per noi Rebecca, Rebecca! Sì, buongiorno Massimiliano, guarda, è stata una sorpresa che per me c'è, esiste il tè made in Italy e noi ci troviamo in piena Valdossola. Non è che quelle che vediamo alle tue spalle sono le ande? No, no, quelle sono le Alpi che ci separano praticamente dalla Svizzera. Questa era Valdossola e questa che vedi intorno a me è la piantagione di tè per estensione più grande d'Italia. Nata un po' da una scommessa e ti faccio subito conoscere, Alessandro Zacchera, 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 perfetto, che è insieme al padre colui che ha voluto scommettere su queste piante. E facciamo un pochettino, diamo l'idea dell'estensione, aiutami Manuel. Insomma, erano 500 piantine, sono diventate più di 20.000, vero? Alessandro, vieni qua. Quasi due ettari e mezzo di piantagione, nata dall'iniziativa di mio padre Paolo, che nel 2017 ha piantato le prime 500 piante. Un esperimento inizialmente, visto che d'inverno qua fa freddo, come potete vedere. Questa vinta, perché quello che voglio chiedere, cioè non siamo in Turchia, non siamo in Cina, non siamo in Giappone, ma siamo sotto la neve, sotto le montagne, e qui si può piantare tè. Si può piantare, come vedete le piante hanno risposto magnificamente, nonostante gli inverni rigidi, e tutto è nato appunto selezionando delle piante resistenti al freddo. Perché il punto qual è, Massimiliano? Queste sono camellie, e tu Alessandro, insomma, nasci come vivai, insieme a tuo padre, coltivavate, avete sempre coltivato camellie, e questo è un tipo di camellia che dà il tè. Sì, le piante del tè sono camellie sinensis, quindi appartengono allo stesso genere delle camellie che la mia famiglia coltiva dagli anni Ottanta, sul Lago Maggiore. E che tipo di tè producete? Perché sono diversi tè o un unico tè? Dalle stesse piante si può raccogliere i germogli e le foglie per fare sia un tè bianco, un tè verde e un tè nero. Quest'anno ci siamo concentrati sulla produzione di tè verde e tè nero. Ok, oltretutto anche premiato, Massimiliano, questo tè medie in Italy. Facciamole vedere queste piante, Manuel. Guarda che bene, bellissimo. Tra l'altro, no, la cosa che ho scoperto anche adesso è che è in base all'essiccazione, che quindi, infatti, la stessa pianta puoi avere tè verde e tè nero. Ma hai mai provato il nostro tè italiano? Io personalmente no. Allora io vi invito a ritornare qui con noi e il tè italiano l'ha provato, immagino di sì. Sì, sì, sì. E com'è? Di diverse piantagioni. Di buona qualità, discreta qualità. Discreta qualità. Discreta qualità. Deve diventare di ottima qualità. E allora io vi invito a ritornare proprio qui nel nostro studio perché vedete c'è di tutto di più. Grazie Rebecca, grazie.